stop alle proroghe a rischio 900 stabilimenti balneari marchigiani guardie mediche e servizi ridotti all'osso nell'arco di tre mesi tornano gli incidenti sulle siligate distrutta una porsche caro bollette conf commercio chiede l'aiuto del prefetto pesaro music awards vincono alaimo campanella e pedrotti benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 16 febbraio e questa sera troverete una sola edizione cioè quella che state guardando del nostro telegiornale perché alle 20 trasmetteremo in diretta la partita dell'ital service appunto in questa edizione parliamo del futuro estremamente incerto per i 900 stabilimenti balneari delle marche alla luce dell'approvazione dell'emendamento del governo che dal 2024 metterà a gara le concessioni demaniali di tutte le spiagge le prossime due estati potrebbero essere le ultime di accesso alle nostre spiagge così come le abbiamo conosciute finora è un futuro estremamente incerto quello che si delinea per i 906 stabilimenti balneari attualmente attivi sui 185 chilometri di costa marchigiana un'incertezza generata dall'effetto della direttiva bolkenstein che col pronunciamento di ieri del consiglio dei ministri di fatto approva lo stop a ulteriori proroghe alle concessioni balneari dal primo gennaio 2024 le spiagge si aprirebbero così alla liberalizzazione tramite gare a evidenza pubblica delusione e rabbia per gli operatori del settore che nell'ultimo anno hanno compiuto ogni azione spendibile per un ripensamento politico da questo annullamento di proroghe rinnovi azioni che continueranno fino a che il disegno di legge non arriverà al Parlamento le immagini ci sono perché poi la legge delega e dovrà essere valutata in Parlamento quindi adesso la palla passa al Parlamento e bisogna vedere se il Parlamento accetterà la legge come è stata proposta sicuramente come balneari, come CNA balneari siamo molto delusi da questa risposta perché abbiamo partecipato attivamente ai tavoli di lavoro nazionali abbiamo partecipato con il ministro delle politiche comunitarie Germini con il ministro delle attività economiche Giorgetti e con il ministro del turismo Garavaglia abbiamo partecipato a un tavolo anche il 28 dicembre a Roma, poi il 4 gennaio tuttora c'è un tavolo tecnico aperto e quindi ci sembra anche poco rispettoso questo modo di intervenire un po' così a, come dire, a gamba tesa sulla situazione che ancora era in divenire e dopo aver avuto tante dimostrazioni a parole di vicinanza alle imprese balneari ci troviamo di fronte a un provvedimento che sinceramente non riteniamo tuteli in alcun modo le imprese balneari che sono 50 anni che fanno attività turistica in questo paese e che sono una peculiarità importantissima per il nostro paese non vorrei ci ritrovassimo ad avere le nostre coste in base da, permettetemi, da McDonald degli stabilimenti balneari tutti uguali, tutti conformi o comunque che le nostre coste diventino preda di multinazionali e che quindi questa concorrenza sia a senso unico solo a discapito del nostro paese, del nostro lavoro e delle nostre imprese Ed ora cambiamo completamente argomento perché continua a impoverirsi il servizio di guardia medica nella provincia di Pesaro Urbino una situazione sempre più preoccupante come ci viene spiegato in questo prossimo servizio Il distretto di Pesaro è già stato mutilato quelli di Fane Mondolfo sono indirizzati verso la stessa sorte da novembre in poi il servizio di guardia medica è andato gradatamente scomparendo passando a Pesaro da 27 camici bianchi in servizio ai 6 attuali A Fane Mondolfo il passaggio previsto è da 13 a 4 aggiungendo sale sulle ferite di un comparto che ha già visto la chiusura dei presidi di Gabic, Gradara e della Casa della Salute di Vallefoglia una situazione preoccupante per la quale si sta battendo l'opposizione in consiglio regionale Nell'arco di meno di un anno ma di 5-6 mesi la Regione Marche, la Giunta Quaroli ha chiuso abbattendoli proprio come un domino a scaletta sette postazioni di guardia medica sette considerando anche Fano Mondolfo che sono a rischi chiuso totalmente o parzialmente intendo il problema non è la carenza di medici ma le condizioni insostenibili a cui la Regione chiede di lavorare da 27 medici che avevamo nel nostro distretto siamo passati a 5-6 allora viene chiesto di fare la stessa cosa lo stesso servizio che prima facevano in 27 ad un compenso di circa 23 euro l'ora dell'ora immaginiamo cosa possa significare per un medico rimanere solo a coprire il triplo dei turni per 23 euro l'orde la notte con un'infinità di rischi per la Vitri le soluzioni esistono a cominciare dagli adeguamenti contrattuali già applicati in altre regioni sottoscrivendo il contratto integrativo regionale che permette di portare il compenso orario da 23 euro a 30 euro l'ora in questo modo accetterebbero tanti medici e il secondo passaggio indispensabile sarebbe quello di togliere l'incompatibilità che non permette a tutti coloro che vogliono accettare l'incarico quindi medici appena andati in pensione oppure anche quei medici che hanno più di 600 mutuati quindi togliere dell'incompatibilità e in questo modo potremmo riuscire a coprire tanti turni vuoti e riaprire le postazioni Spazio al consueto appuntamento con i dati covid nel nostro territorio sono 2204 i nuovi casi di covid-19 nella regione Marche di cui 354 in provincia di Pesaro Urbino i ricoveri scendono a quota 349 di cui 34 in terapia intensiva resta alto il numero dei decessi altri 10 registrati nella giornata di oggi Tornano gli incidenti stradali sulle Siligate nella serata di ieri infatti una Porsche è rimasta distrutta nello schianto contro una Citroen C4 guidata da una signora di mezza età che ha rimediato lievi ferite illeso per fortuna anche il conducente della Porsche Ed ora torniamo ad occuparci del caro Vollette una situazione davvero insostenibile per famiglie e attività per le quali si è mobilitata Confcommercio Pesaro Urbino che venerdì consegnerà al prefetto Ricciardi un documento recante lo stato di sofferenza della categoria del terziario con cifre messe nero su bianco al pari delle proposte da recapitare al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti Venerdì mattina ci saremo anche noi in questo incontro tra Confcommercio e il prefetto e nel telegiornale di venerdì sera vi racconteremo quanto verrà stabilito e adesso cambiamo ancora argomento una bella notizia di solidarietà con l'Auser di Pantano che grazie ai proventi dei mercatini di quartiere ha potuto donare buoni spesa a famiglie in difficoltà Questa è un'idea partita un po' di tempo fa noi abbiamo realizzato nel parco di Via Rossi un mercatino perché l'altro evento l'abbiamo dovuto annullare causa maltempo e pandemia perché c'è anche questo problema e quindi il ricavato di questo mercatino dove espositori e avventori del mercatino hanno contribuito acquistando e chi vendendo i loro prodotti per creare questi contributi che oggi siamo venuti a consegnare sono 4 buoni da 50 euro cada uno dove si potranno soffrire 4 famiglie bisognose del quartiere Pantano quindi noi abbiamo voluto rivolgerci ai servizi sociali del comune di Pesaro e in modo particolare la referente del quartiere Pantano e quindi saranno loro a consegnare queste 4 buone spese Euro Spin a quelle 4 famiglie più bisognose del quartiere Sarà il primo di altri belli gesti come questo? Certo, ci rivedremo a breve probabilmente già a maggio perché abbiamo ricevuto un contributo dal comune dovrebbe arrivare a breve e quindi anche una parte di questo contributo che ringrazio l'assessore Daniele Vimini perché ci ha dato il patrocinio per una rassegna di film di cineforum che stiamo facendo e un contributo ci viene dato da loro e quindi anche lì una parte andrà consegnata sempre qui ai servizi sociali Iniziative future invece da parte vostra? Allora, innanzitutto ci sarà a breve partirà un progetto sui bambini conoscere la Costituzione giocando quindi è un po' un progetto che vuole così insegnare ai bambini di età scolastica come è nata la Costituzione ci sarà poi un saggio a fine corso poi ci sarà, stiamo pensando a un progetto ecco che lo voglio dire che è molto importante una raccolta fondi per mandare la squadra nazionale di basket femminile sordo mute ai mondiali a Creta nel 2023 perché è un progetto che ci tengo molto e ci teniamo molto perché mi sembra giusto che queste ragazze possano realizzare il loro sogno sono un po' dimenticate da chi invece dovrebbe supportarle e quindi adesso noi non ci siamo dimenticati e le portiamo avanti questo progetto anche grazie al presidente provinciale Massimo Ciabocchi Hauser e a tutti i circoli Hauser che ieri hanno appoggiato questa nuova iniziativa Questa sera c'è spazio anche per l'economia e allora vi presentiamo FIDER il più grande confidi dell'Emilia Romagna ora pronto all'espansione nelle marche Era già il confidi più grande dell'Emilia Romagna con 25.000 associati ora FIDER punta a replicare l'espansione sulle marche un obiettivo ragionato su una base già consolidata di 2.000 soci con attenzione diversificata dal turismo alla manifattura dal commercio ai servizi un progetto di ampliamento presentato nella sede pesarese FIDER di Via Gagarin le marche è uno dei nostri territori prioritarie e il nostro consolidamento è quello proprio di andare ad assecondare già una base associativa di 2.000 soci dei 25.000 soci nazionali dalla costa all'entroterra dal nord della regione al sud abbiamo fatto una valutazione sulle tipologie di impresa e abbiamo riscontrato tantissime potenzialità quindi non un mercato saturo da cambiare ma sicuramente un mercato nuovo da far crescere Snodo cruciale delle competenze FIDER il lavoro sartoriale cucito su misure delle aziende in un accompagnamento sulle specifiche consulenze le relazioni bancarie e le attuali opportunità di intercettazione fondi Confidi di una volta era limitava la sua attività al rilascio della garanzia oggi il nostro Confidi però non tutti i Confidi il nostro Confidi in particolare affianca al rilascio della garanzia anche il rilascio dei servizi per accedere a qualche tipo di contribuzione pubblica di cui l'impresa ha molto spesso bisogno quindi quello che noi vogliamo comunicare alle imprese è questo che se si rivolgono a noi le imprese si rivolgono a un soggetto che ha degli ottimi rapporti con il mondo bancario conosce quasi tutte le banche e sa indirizzare l'impresa verso la banca che in quel determinato momento offre il prodotto commercialmente più indicato per soddisfare il bisogno dell'impresa la stessa cosa vale per la contribuzione l'accesso ai contributi ecco molte imprese non sanno nemmeno di poter accedere ad alcuni contributi non li conoscono ecco noi li conosciamo tutti abbiamo una struttura che con grande anticipo sta attenta a tutto quello che c'è e tutto quello che ci sarà in termini di contribuzione in poco tempo il sostegno al turismo resta uno dei core business cruciali con un salto dalla base pesarese verso il centro sud le marche sono una regione dove c'è una potenzialità nello sviluppo turistico molto importante partendo da Pesaro dove noi abbiamo la nostra filiale una delle filiali più importanti della regione nostro fiore all'occhiello che cercheremo di replicare anche sulle altre province delle marche fino ad Ascoli Piceno chiaramente il turismo quest'anno dopo due anni di pandemia è il settore che ha subito una contrazione maggiore e quindi ci saranno contributi fondo perduto per imprese che cercheranno di investire non possiamo perdere l'occasione di ridare centralità a quella che è la nostra soprattutto costa anche in un discorso dell'entroterra molti investitori stranieri stanno acquistando agriturismi stanno riqualificando quindi gli strumenti sono contributi agevolazioni per riqualificazione energetica antisismica efficienza energetica e siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale prima però parliamo dell'assegnazione del Pesaro Music Awards che annualmente vengono assegnati a grandi interpreti della musica da Orchestra Sinfonica Rossini e Xanitalia scopriamo allora chi sono i premiati del 2022 sono Nicola Alaimo Michele Campanella e Roberta Pedrotti i tre vincitori dell'edizione 2022 dei Pesaro Music Awards il premio assegnato annualmente da Orchestra Sinfonica Rossini Xanitalia e Comune di Pesaro celebra il contributo d'eccellenza al panorama musicale nell'anno appena trascorso i nomi dei premiati sono stati annunciati oggi dal Comune di Pesaro questo premio nasce nel 2019 assieme al Comune di Pesaro assessorato la bellezza Daniele Vimini e all'azienda Xanitalia nostro main sponsor e quindi ringrazio il patron Franco Signoretti questo premio intende valorizzare le eccellenze della musica sia quelle mondiali che in qualche modo hanno avuto qualche rapporto con Pesaro sia quelle che partendo da Pesaro hanno avuto successo nel circuito internazionale nei primi due anni abbiamo ad esempio nel settore lirico premiato Daniela Barcellona il noto mezzo soprano e Mariella De Via il noto soprano quest'anno invece il premio finirà fra le mani del baritono siciliano pesarese d'adozione Nicola Alaimo che rappresenta una delle stelle più brillanti della lirica internazionale e con lui il pianista e direttore d'orchestra Michele Campanella e a completare il tris di premiati la giornalista e scrittrice Roberta Pedrotti membro dell'associazione italiana critici musicali e fondatrice della testata l'ape musicale come consuetudine tre sono coloro che ricevono il Pesaro Music Award che oltretutto è un prezioso fatto da degli artigiani fiorentini che è particolarmente gradito in quanto è un filo unico d'argento che ricurvo su se stesso va a formare la chiave di violino il galà del Pesaro Music Awards si terrà domenica 27 marzo alle 18 al teatro sperimentale con un programma musicale che vedrà salire sul palco Michele Campanella in veste di pianoforte solista con musiche di Mozart e Nicola Alaimo che interpreterà celebri arie rossiniane complimenti ai vincitori del Pesaro Music Awards ma adesso vi ricordo che tra pochissimo partirà su Rossini TV la partita dell'Ital Service che è contro il Napoli Futsal quindi guardateci live sia sul canale 633 oppure se preferite sulla nostra pagina Facebook e poi l'appuntamento con l'informazione torna domani con la nostra rassegna stampa alle 7.20 adesso per voi il meteo grazie per averci seguito buona serata